Trip.me2 è una startup innovativa a vocazione sociale nata in Campania nel 2017 che opera nel settore turistico. Il modello Trip.me2 mette al centro il viaggiatore con le sue esigenze permettendogli di personalizzare e modulare la propria esperienza di viaggio, dall'altra parte gli operatori del settore turistico certificandoli o accompagnandoli all'accessibilità grazie al supporto tecnico e in tal modo valorizzando i propri servizi inserendoli nel network Trip.me2. Il focus di Trip.me2 è la diversità umana e lo scopo è quello di eliminare una barriera culturale che il mercato turistico ha creato negli anni. Il nostro modello permette di personalizzare e modulare il proprio viaggio sulla piattaforma web Trip.me2 per esigenza grazie a dei filtri di ricerca che permettono all'utente di ricevere tutte le informazioni sull'accessibilità dei servizi per esperienza andando a ricercare l'esperienza desiderata dal food alla cultura alle attività per territorio valorizzando anche gli aspetti poco promossi del territorio e le realtà anche del terzo settore che molto spesso non riescono a promuovere la loro offerta. Nel 2019 l'app sarà online e consentirà a Trip.me2 di ricevere tutte le informazioni a distanza sull'accessibilità e rendere scalabile il modello.